E' inevitabile che il pensiero dell'ambiente azzurro sia già rivolto alla gara contro la Juventus del 13 febbraio. Tuttavia sul cammino del Napoli c'è prima il Carpi e Maurizio Sarri vuole tenere alta la concentrazione dei suoi per la gara di domani pomeriggio. Alle ore 15 infatti, per la prima volta nella storia, il Carpi fa visita al Napoli in una gara di Serie A. Nella partita di andata i uomini di Castori erano riusciti a fermare gli azzurri sullo 0-0, così come il Frosinone aveva bloccato la Juve sull'1-1. Domani non sono ammessi errori e i partenopei cercheranno l'ottava vittoria consecutiva in campionato. La formazione, col consueto 4-3-3, dovrebbe prevedere Reina in porta, la difesa 4 con Isai al rientro dalla squalifica, Albion, Koulibaly e Goulam. A centrocampo dovrebbero giocare Allan, Valdifiori che sostituirà lo squalificato Giorginio e Amsic. Nel tridente ci sono Kayevon, Insigne e Higuain, ma non è escluso che trovino spazio, magari a gara in corso, Gabbiadini e Mertens. La probabile formazione del Carpi prevede invece un 3-5-2, con Belez tra i pali, Zaccardo, Swager e Poli in difesa, Sabelli, Crimi, Bianco, Cofì e Letizia a centrocampo e la coppia d'attacco composta da Di Gaudio e Mbakogu. L'arbitro è il signor Doveri di Roma.